Gentili telespettatori, buona giornata. Oliviero Toscani, ve lo ricordate? Quello licenziato dai Benetton per le frasi sul ponte. Il fotografo, ex fotografo dei Benetton. Il grande odiatore di Salvini, di Meloni. Lui odia. Non è mica reato odiare, eh? Non è che c'è scritto nella Costituzione che chi odia deve avere l'ergastolo. In Italia si è liberi di odiare, no? Se tu sei un odiatore, allora lui odia. Eh, insomma, sarà libero di odiare? Lasciamolo odiare in pace. Ma lui dice che Elie Schlein, cioè Elena, perché Elie non esiste, Elena è troppo intelligente per la media degli italiani. Ma vediamo esattamente cosa ha detto. Gli elettori preferirebbero Maurizio Landini al posto di Elena. E secondo Olivero Toscani c'è un motivo molto semplice. Elena non è stata ancora capita. Perché è troppo intelligente per la media degli italiani? Dice il fotografo. In Italia funzionano i tromboni. La Schlein è molto sottovalutata perché essendo troppo intelligente è difficile da gestire. Troppo fine. Troppo civile. Caspita. Non dice parolacce. È educata. Caspita. Bene. Per il 48% degli elettori di centrosinistra, il sondaggio AMG ADN Kronos dice che il segretario della CGL, Landini, potrebbe essere il possibile leader dei DEM. Poi alla domanda fatta nel sondaggio. Tra Landini, Conte e Schlein chi vorrebbe come leader della sinistra, il 32% sceglie Landini, il 30% sceglie Conte e l'ultima è lei, Elena, con il 20%. A dieci mesi dalla sua incoronazione come la regina del PD, non ha conquistato il cuore del suo elettorato di riferimento. E secondo Liviero Toscani la spiegazione è semplice. È semplice. Quella è troppo intelligente. L'elettore medio del PD non è intelligente come la Schlein e pertanto preferisce uno come Landini che è un po' più terra-terra secondo Oliviero, il licenziato della Benetton. E dice sempre lui, se fossi una donna sarei fiera di avere una rappresentante così, una donna vera. Landini è un bravissimo sindacalista e secondo me potrebbe partecipare con la Schlein a formare una sinistra intelligente, mentre su Giuseppe Conte dice uno di cui non ci si può fidare. Allora, concordo con Oliviero che di Conte non ci si può fidare. Zero. Erba Anderuola, bene, non ci si può fidare. Per quanto riguarda l'elettorato del PD che non arriva all'intelligenza della Schlein, allora un'affermazione del genere ti fa fermare un attimo e ti fa riflettere. E tu dici, io ho sempre pensato che le persone intelligenti sono emarginate, un po' emarginate perché la media nel mondo non è molto alta, il mondo non è fatto dagli intelligenti, la maggioranza della popolazione mondiale è un po' stupidotta, chiaro? Gli intelligenti sono una minoranza, piccola. Il mondo è degli stupidi, parliamoci chiaro. La teoria di Toscani è l'elettorato del PD in gran parte formato da quello che vi dicevo prima, pertanto lei che fa parte di quelli di un elevato quoziente intellettivo di intelligenza superiore non la capiscono, preferiscono un Landini, che è più terra terra, un trombone che grida, però dice insieme il trombone che grida e quella superintelligente potrebbero sommare le due cose, c'è il trombone che grida e quella superintelligente, si mettono insieme e parlano tutti e due a questo popolo un po' così, un po' così, e così potrebbero tutti e due far elevare un po' di più gli elettorati di sinistra. Quindi parliamoci chiaro, in generale, parliamo così in generale, lo stupidotto non riconosce la persona intelligente. Anzi, ti dice che la persona intelligente non ci arriva, non capisce, eccetera, eccetera. Anch'io mi sono soffermato un attimo, quando Toscani ha detto questa cosa, io mi sono fatto la domanda a me stesso. Non è che anch'io, senza rendermene conto, faccio parte della maggioranza di stupidotti del pianeta e non riconosco, perché lo stupido non riconosce l'intelligente. Sarà che anch'io derido questa Schlein, ma in realtà ha un livello superiore al mio di intelligenza e io non lo riconosco perché sono un po' stupidotto come la maggior parte, mi sono fermato un attimo a riflettere su questa cosa. Non è che ha ragione Toscani? Che io e quelli che criticano la Schlein non ci arriviamo? Non capiamo la sua superiorità intellettuale? Riflettendoci bene non credo proprio. Credo che quello che ha detto Toscani sia completamente diverso, totalmente diverso, totalmente diverso. Adesso non vorrei scendere nei particolari perché poi diventa offensivo e voi sapete che viviamo in un clima della denuncia facile, quindi mi fermo nel dire che credo che Oliviero Toscani abbia preso una bella cantonata con Elena. Lui dice è troppo intelligente per l'elettore del PD e per questo che non la vogliono. Invece credo che, come vi dicevo prima, che Oliviero Toscani abbia preso una bella cantonata oppure la sua linea di pensiero è un'altra. Oggi c'è la Schlein, bisogna comunque difenderla perché dall'altra parte ci sono i cattivi. Quindi oggi la sinistra c'è a guida Schlein è quello che io dico che è il massimo perché noi dobbiamo sconfiggere i cattivi. Quindi esalto quello che c'è perché l'obiettivo è sconfiggere i cattivi, il regime fratellista. E quindi bisogna lodare le truppe, dire che sono formidabili e invincibili e quindi di Schlein diventa troppo intelligente, troppo intelligente per la media degli italiani. Io credo invece che sia proprio nella media e mi fermo qua. Grazie a tutti e arrivederci a presto.